E partiamo da quello che si può dire, il coso più caldo che è capitato questa settimana, c'è Palestina e Israele, tutto quello che è successo ci ha un po' sconvolto, una cosa che non si vedeva da se non sbaglio 30, 40, 50 anni, c'è un attacco a sorpresa e Israele è rimasto coinvolto in maniera inaspettata. Non di questa portata, indubbiamente non di questa portata, tra parentesi sarà anche un spunto di riflessione dal punto di vista del come si sono mossi un po' i vari asset, alla precisazione doverosa Pasquale, ovviamente questo canale live di approfondimento finanziario per cui togliamo tutti gli approfondimenti politici del caso, si toglie la parte più umana che indubbiamente come era successo ai tempi per l'Ucraina può toccare in maniera anche personale, però questa non credo che sia la sede per parlarne, qui si parla di mercati, si cerca di comprendere un pochino quello che succede e come si muovono i mercati di riflesso relativa delle notizie che possono andare ad impattare anche in maniera molto importante, soprattutto per quanto riguarda la volatilità dei mercati, che ritengo sia una delle cose che più dovremmo andare a tenere monitorate, soprattutto quando abbiamo un approccio un po' più attivo. Per quanto riguarda questi primi giorni non sembra che ci siano stati dei movimenti particolari sul mercato, anzi qualcosina proprio di impercettibile. Infatti è stata la grande sorpresa che francamente, lo dico con la massima tranquillità, non mi aspettavo vedere un mercato che tutto sommato sta seguendo quello che è il suo andamento, anzi lo possiamo andare a vedere tranquillamente, salvo, infatti salvo quelle che sono state le piccole volatilità in apertura dei mercati, dove storicamente ci sono alcuni asset che durante delle difficoltà come quelle alle quali abbiamo assistito, si muovono in un determinato modo, e ora andiamo a vedere che tutto sommato è stata la situazione anche abbastanza tranquilla. Permettimi, ti condivido un secondo lo schermo così che ti posso far vedere un secondo. Quella che è stata la situazione, aspetta, eh. Un video schermo, eccolo qua. Vediamo, partiamo dal classico SP500, lo sappiamo, l'abbiamo visto più, lo vediamo e sarà uno degli indici che maggiormente andiamo a tracciare durante le nostre diette. Indice americano che tutto sommato è rimasto francamente, estremamente contenuto con l'apertura che c'è stata. Adesso fatta salva di un piccolo ritracciamento, e possiamo definirlo tranquillamente, un piccolo ritracciamento del 0,98% all'apertura di lunedì, a seguito delle notizie che ci sono state tra sabato e domenica. Poi tutto quanto è andato, mi verrebbe da dire per il meglio, in apertura dei mercati rispetto a settimana scorsa, al martedì scorso, ci siamo mossi in positivo, ci troviamo, questo è il futures o l'S&P, con un più 2,66% rispetto a quella che era stata la settimana precedente, così come il Nasdaq anche non ha risentito di questa notizia, notizia che anzi molti potevano aspettarsi un picco di volatilità. Picco di volatilità che, attenzione, non è che non ci sia stato, lo andiamo a vedere con la volatilità del VIX, che è, come vi dicevo la scorsa volta, l'indice di volatilità dell'S&P 500, abbiamo visto in apertura che siamo passati dal livello 17 al livello 18,5, quindi comunque c'è stato un aumento dei volumi di scambi all'interno della volatilità dell'S&P 500, ma tutto sommato non quello che ci si potrebbe aspettare rispetto alla notizia di questa portata. D'altra parte invece ci sono alcuni elementi che si sono mossi, e si sono mossi anzi in maniera molto, piuttosto forte, in apertura, partendo dal petrolio. Il petrolio che sappiamo benissimo essere legato a doppio filo con il conflitto israelo-palestinese, il petrolio che è uno degli asset che maggiormente risente di questo genere di notizie, ha avuto un picco dall'apertura del venerdì del più 2,75% e dall'apertura del lunedì abbiamo un aumento del più 3,45%. Tra parentesi, adesso lo vogliamo andare a vedere, il petrolio che si trova in una fase che, salvo il grande ritracciamento, tutto sommato rimane positiva. Ed è importante tracciare il petrolio molto di più rispetto ad altre materie prime, perché è legato a doppio filo con quella che è l'inflazione globale. in un mondo interconnesso come quella all'interno del quale ci troviamo, tener traccia di uno degli elementi che incide maggiormente sul paniere dell'inflazione, a livello europeo, a livello americano, a livello mi verrebbe da dire quasi globale, per quanto siano delle differenze, è sicuramente da tenere monitorato. Poi sul perché, sul per come, ci sono queste volatilità ed è così importante, ne possiamo parlare, quali possono essere le cause, se ne può parlare. Prima che concludo, altro elemento, l'oro. L'oro che, come classico bene rifugio, per eccellenza, anche se con tutte le variabili del caso, si è comportato come tale, in apertura ha fatto un più 0,88 e poi si è portato in alto all'1,85%, oro che, a differenza del petrolio, ha praticamente sentito un supporto dai livelli di febbraio ed è rischizzato verso l'alto. Bisogna un po' vedere come ci si andrà a muovere. Ultimo elemento, e qui poi mi taccio per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, interessante è stato vedere il dollaro americano. Il dollaro americano che, va detto, rispetto a quelli che erano stati i minimi toccati dall'Ulio, nel 2023, ha avuto una overperformance del 6,5%, che comunque è una performance importante, a differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, fatto salvo un piccolo, veramente stiamo parlando di un piccolo movimento, pari allo 0,44%, poi si è rimangiato tutti quanti i rendimenti che si sono stati ottenuti ed è una notizia abbastanza particolare perché, a differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, il dollaro americano storicamente è una delle valute che maggiormente viene presa in considerazione dagli investitori in queste situazioni. Per cui è interessante vedere questo dualismo tra alcune materie che storicamente si sono comportate esattamente come, mentre altre, come ad esempio la currency del dollaro, no, meno. Tra l'altro un discorso che si potrebbe fare sempre in questo contesto è che, visto che gli Stati Uniti stanno supportando l'Ucraina con delle armi, questo nuovo conflitto, e si vede anche dal fatto che stanno arrivando degli aiuti logistici da parte degli Stati Uniti, possa andare a pompare un po' quelle che sono le aziende che si occupano di difesa, che producendo più armamenti potrebbero anche avere un'ottima trimestrale o delle ottime trimestrali nei mesi successivi, per cui chi ha voto in queste aziende o chi pensa di considerare questo tipo di settore potrebbe trovare dei benefici. Cosa ne pensi? Allora, da un punto di vista meramente concettuale assolutamente, assolutamente, lo riconferma il fatto che Biden ha già dichiarato il suo appoggio ad Israele, notizia se non ricordo male delle prime ore di ieri, orario americano ovviamente, e ha già dichiarato. Ora, è interessante cercare di comprendere un attimino come e quale sia la sostenibilità di queste aziende nel poter produrre, nel vero e proprio sì, di produzione, perché qui ci troviamo di fronte ad una duplice richiesta sia da parte ucraina che da parte di Israele e sarà interessante un attimino capire. Però, indubbiamente, saranno nell'occhio del ciclone per quanto riguarda l'analisi degli investitori. Su quello assolutamente concordo con te, Pasquale. E questo mi porta anche a un'altra considerazione. Solitamente queste tipologie di attività non si fanno a credito, ma a debito. Per cui immagino che verranno emessi delle nuove obbligazioni nazionali e governative per supportare tale sborso. Tra l'altro le obbligazioni d'USA sono l'argomento a cui passiamo dopo, però anche questo potrebbe sovraindebitare alcuni paesi, fra cui gli Stati Uniti, perché non sono solo gli Stati Uniti che vogliono andare a supportare Israele, ma anche altre nazioni, compresa l'Italia. E anche lì potremmo vedere nuove emissioni, ad esempio, di BTP o così via. Indubbiamente è stato interessante vedere come si sono messi tutti quanti gli Stati che hanno già preso parte. E tra parentesi questo è interessante, anche se è un discorso molto ampio per quanto riguarda l'asset, il nuovo bipartisan che c'è come asset globale. Ma rimanendo un po' più nel breve, indubbiamente un nuovo indebitamento è una cosa abbastanza preventivabile, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda la parte dei bond degli USA, in quel caso, qualora si dovesse verificare quanto tu dici, attenzione perché ci troviamo di fronte ad uno Stato che, per quanto ha la valuta più stabile, più tranquilla, da un punto di vista di fruttuazioni, potrebbe risentire di un ulteriore indebitamento, dato che già ci troviamo a dei massimi raggiunti, per quanto riguarda l'indebitamento degli Stati Uniti, per far fronte ad una crisi già precedente, ossia quella dell'inflazione.